Musica Buongiorno e benvenuti nella sesta lezione di questo corso d'italiano per il secondo anno Baccaloria. Ok, questa lezione viene intitolata, intitolata, ecco, consigli per l'acquisto di un PC. Ok, in questa lezione è per cominciare e al fine di raggiungere, allora, per cominciare, vediamo gli obiettivi di questa unità, ecco, è il primo, vediamo, lessico relativo al computer. Questo è il primo. Secondo, va bene, vediamo un po'. Imperativo, affermativo, verbi irregulari. Ok, adesso vediamo il terzo obiettivo della lezione, eccolo. Imperativo negativo, ripeto, lessico relativo al computer, l'imperativo affermativo, verbi irregulari e poi l'imperativo negativo. Ok, per cominciare, per raggiungere questi obiettivi, tre obiettivi, prova a svolgere o a fare questa attività. Va bene? Ok, allora, guarda benissimo queste immagini, ok? E scrivi tutte le parole che ti vengono in mente. Va bene? Guarda benissimo. Queste immagini, cosa hanno in comune? Un po' difficile? Sono dei computer. Il primo, computer fisso. Brava. Il secondo è un pc portatile. Bravissimo. Ok, adesso passiamo al passo successivo. Il pc significa varie cose. Va bene? Per esempio, per esempio, per esempio, rivoluzione informatica. Infatti, questo pc o il pc ha cambiato la nostra vita o anche ha cambiato il nostro secolo. Ok, altro, per esempio, la posta elettronica. Ti ricordi quante poste elettroniche hai spedito e anche hai ricevuto? Benissimo. Computer significa anche navigare in internet. D'accordo? La navigazione in internet adesso è ormai un'abitudine quotidiana. Ok? Altro servizio che potrebbe darci internet. Ok, vediamo. Scaricare, scaricare cd, film, scaricare canzoni, così via. Anche fare ricerche o ascoltare la musica. Diamo un'occhiata al primo computer e al secondo. Vediamo che il computer, il secondo computer, il portatile, è più moderno, più bello, più pratico. Non trovi? Ok? A proposito di moderno, pratico, eccetera. Va bene? Come il tuo computer? Forse è un po' vecchietto, vero? Non vedi l'ora di cambiarlo, di acquistare un altro. Sai cosa vuol dire acquistare? Acquistare vuol dire comprare. Acquistare è il nome? L'acquisto. Dunque, l'acquisto la compra. Ripeto, acquistare, comprare. L'acquisto la compra. Va bene? Ecco. Guarda. Acquistare, comprare un nuovo PC. Ok. Sai che per fare un buon acquisto ci sono consigli da rispettare, cioè da prendere in considerazione? No? Sì? Quali sono questi consigli? Va bene. Allora ti invitiamo a leggere questo testo. Va bene? Ok. Consigli per l'acquisto di un PC. Prima di comprare un computer, cerca il maggior numero di informazioni. Due. Non acquistare il PC più veloce, ma dai la priorità al modello cui velocità è un po' inferiore. Tre. Per confrontare i prezzi di rivenditori differenti, fai attenzione sempre alle caratteristiche del PC e delle sue periferiche. Esempio stampante, scanner, eccetera. Ok? Non risparmiare sull'acquisto del monitor. Si corre il rischio di compromettere la vista. Sii sicuro che il rivenditore possa garantirci anche i servizi post vendita. Verifica quali negozi offrono maggiori garanzie. Ok? Va bene. Dopo questa lettura adesso ho una comprensione. Abbiamo avuto un'attività di comprensione. Queste affermazioni sono vere o false? D'accordo? La prima affermazione. Nel testo si consiglia di? Affermazione 1. Si consiglia di comprare il PC più veloce. 2. Si consiglia di acquistare il monitor più caro. Vediamo la prima. Comprare il PC più veloce. Si consiglia di comprare il PC veloce. Vero o falso? Nel testo. Ti ricordi? Sì? No? Va bene. Allora, questa affermazione è, diciamo, falsa. Perché falsa? Perché si consiglia di avere, di acquistare il modello cui velocità è un po' inferiore. Adesso vediamo la seconda affermazione. Si consiglia di acquistare il monitor più caro. Questo è vero o falso? Vero o falso? Ovviamente è un'affermazione vera. Perché? Nel testo abbiamo più il monitor è caro, più è meno pericoloso per gli occhi, per la vista. L'hai capito? Adesso vediamo l'affermazione numero 3 e 4. Nel testo si consiglia di, ok, fare una ricerca prima di comprare il PC, 4, dare importanza alle caratteristiche del PC. Vediamo la terza. Fare una ricerca prima di comprare il PC. Questa affermazione è vera o falsa? È verissima, perché si consiglia di avere maggior numero di informazioni prima di comprare un PC o un computer. Perfetto. Adesso vediamo la quarta. Dare importanza. Si consiglia di dare importanza alle caratteristiche del PC. Questo è vero o falso? Va bene? L'hai trovato? Ecco. La risposta è questa. È vero, perché nel testo abbiamo bisogno di dare importanza alle caratteristiche per poter confrontare i prezzi. D'accordo? Una domanda. Ti ricordi dei nomi relativi al computer usati nel testo? Parole relative al PC? Non ti ricordi? Ok. Ecco un'attività da svolgere. Ecco le immagini che ti rappresenteranno le parole usate. È il primo, la prima immagine, la seconda e la terza. Quali sono le parole rappresentate da queste immagini? La prima immagine corrisponde a monitor. Bravo. Invece la seconda è una, un, una, bravo, è uno scanner e poi finalmente logicamente la terza è una stampante. Benissimo. Ok. Adesso vediamo un'altra attività sempre nel senso. Conosce altre parole? Adesso è un'attività in questo senso. Abbiamo immagini e diciamo qualche parola. Le parole sono queste. L'istruzione è questa. Prova ad abbinare queste parole alle immagini. È facile, vero? La prima tastiera, CD, webcam, PC, portatile, chiavetta, mouse. Alla prima, possiamo abbinare la prima cosa? Tastiera, CD, webcam, portatile, chiavetta, mouse. Logicamente ha. Bravo. È un CD. Adesso vediamo l'immagine B. B va con webcam, chiavetta, PC, portatile. Logicamente la risposta è questa. È un mouse. Perfetto. Vediamo la C. È un computer. Però nel testo vediamo va con PC, portatile, chiavetta, webcam. Ecco. È un PC portatile. Restano tre immagini. D, E, F. E, D, corrisponde a. Bravo. È una tastiera. Benissimo. Invece, adesso abbiamo due parole e due immagini. Chiavetta, webcam. Senz'altro l'hai capito. La prima, cioè la E è una chiavetta e logicamente, ovviamente, l'altra è una webcam. Perfetto. Riassumiamo. A, CD, B, mouse. C, PC, portatile. Tastiera, chiavetta, webcam. Perfetto. Dopo questa analisi morfosentattica, adesso proviamo ad analizzare lo stesso testo, però da un punto di vista, diciamo, morfosentattico. Ok? Andiamo avanti. Ok, dopo questa attività, come abbiamo detto, prova adesso a cerchiare, evidenziare tutti i verbi coniugati all'imperativo. Ok? Vediamo. Prima di comprare un computer, cerca il maggior numero di informazioni. La prima è? Bravo. Ecco. Cerca. Due. Non acquistare il PC più veloce, ma dai la priorità al modello cui velocità è un po' inferiore. L'hai trovato? Ecco, bravo. E non acquistare. D'accordo? Adesso vediamo. Per affrontare i prezzi dei rivenditori differenti, fai attenzione sempre alle caratteristiche del PC, delle sue periferiche, stampante e scanner. E in questa frase c'è un verbo coniugato all'imperativo? Sì, certo, come no? Ecco. Va bene, vediamo? Bravo, fai. Ok. D'accordo? Adesso continuiamo. Non risparmiamo sull'acquisto del monitor. Si corre il rischio di compromettere la vista. C'è un imperativo qui? Sicuramente. Ecco, non risparmiare. Bravo. Adesso vediamo la quinta. Si sicuro che l'arrivenditore possa garantirsi anche i servizi post vendita. C'è un imperativo qui? Ecco, bravo, l'hai trovato. Si sicuro. L'ultima frase, la sesta. Verifica quali negozi offrono maggiori garanzie. L'imperativo qui è? Bravo, bravissimo. L'hai trovato. E verifica. Ok. Allora, dopo questa attività andiamo avanti. Adesso completa la tabella. Questa tabella con l'infinito di questi verbi. Va bene? Abbiamo cerca. Non acquistare. Dai. Fai. Non risparmiare. Si verifica. Vediamo adesso. Cerca l'infinito corrispondente a questa parola. E? Logicamente. Cercare. Bravo. Non acquistare. Bravo. Acquistare. Perfetto. È chiaro. Poi dai. Qual è l'infinito del verbo? Logicamente il verbo dare. Perfetto. Fai. Lo stesso. È il verbo. Bravo. È il verbo fare. Perfetto. Non risparmiare. Corrisponde all'infinito. L'hai trovato? Bravissimo. Ecco. Risparmiare è logico, ovvio, non naturale. Poi si va con. Si può abbinare dunque all'infinito. Ecco. Bravo. Essere poi verifica. E l'infinito è? Bravissimo. Dunque è verificare. Bravissimo. Dopo quest'attività andiamo avanti. Ti ricordi della lezione numero 5 in cui hai visto, hai studiato come dare consigli attraverso l'imperativo affermativo? Ti ricordi benissimo questa lezione? Va bene. Bravo. Hai visto i verbi regolari? Ti ricordi quali sono i verbi regolari? Vuol dire i verbi che seguono la regola. La regola. Sottolineo questa parola. Ma in italiano tutti i verbi che seguono la regola, cioè sono regolari? Va bene. Per rispondere a questa domanda analizziamo questi verbi, i verbi tratti dal testo. Ok. Allora, il verbo è cerca l'imperativo, l'infinito è cercare normalmente. Applichiamo la regola. Cancello la disinenza dell'infinito, poi aggiungo la radice, la disinenza dell'imperativo, il risultato è questo. Cerca. Dunque l'imperativo è cerca, dunque è una forma regolare. Adesso vediamo verifica. L'infinito è normalmente verificare. Ok. Poi applichiamo la regola, otteniamo cosa? Verifica. Ok. Poi vediamo il risultato è questo. Dunque verifica, dunque è l'imperativo. Adesso è sì, no? L'infinito è essere, d'accordo? Se applichiamo la regola, se cancello la terminazione dell'infinito e poi aggiungo la terminazione dell'imperativo, cosa ottengo? Otteniamo è sì, una forma, diciamo, scorretta, d'accordo? Dunque, perché la forma più corretta, la forma dell'imperativo, questa forma è dunque sì, no? Poi vediamo l'altro verbo. Fare, regolare o irregolare, vediamo. Allora, l'infinito, logicamente, è fare, d'accordo? Vediamo l'applicazione della regola, cancellolare, poi conservo, diciamo, la F, aggiungo l'infinito, diciamo, alla radice la disinenza dell'imperativo otteniamo fa. In italiano non esiste questa forma, l'imperativo non si dice perché il risultato è questo, va bene? Dunque, fai o fa, va bene? Perfetto. Ok, adesso, dopo questa attività, diciamo un po' di lavoro, ok? Vediamo. Ok, un po' di lavoro, cioè io vedo verbi, diciamo, irregolari più utilizzati, più usati. Allora, abbiamo essere, avere, dare, fare e stare. Attenzione alla pronuncia, vediamo, mi raccomando. Essere, sei, sia, siamo, siate. Vediamo il secondo, avere, abbia, abbiamo, abbiate, perfetto. Vediamo il terzo, dare, dai, da, dia, diamo, date, ok? Adesso vediamo il verbo fare, ok? Il quarto verbo è irregolare, d'accordo? Andiamo avanti. Fai, fa, faccia, facciamo, fate. Vediamo stare, ok? Le forme sono queste. Tu stai, sta, lei stia, noi stiamo, voi state, perfetto. Allora, dopo questa attività facciamo un po' di pratica, ok? Va bene? Andiamo avanti. Scegli la forma adeguata tra quelle elencate, d'accordo? Scegli la forma adeguata tra quelle elencate. Marco stai, sta, sta, attento alle caratteristiche del PC. Due, signor Rossi, da, dia, da, importanza anche alla velocità del PC, ok? La forma corretta. Marco stai, sta o sta? Va bene? L'hai trovata? Ecco la risposta. Bravo, sta, perché Marco, dunque abbiamo una forma informale, registro informale. Due, signore da, dia, da. Qual è la forma corretta? La puoi scegliere, l'hai trovata, bravo, ecco, e dia, perché? Perché abbiamo il registro formale, perché, signore, perché abbiamo il signor Rossi. Dunque il registro è formale, va bene? Un'altra attività, ok? Completa con la forma adeguata dei verbi tra parentesi all'imperativo, ok? Vediamo. Isabella, fare attenzione ai computer di cattiva qualità. Due, vediamo. Signor Bianchi, essere sicuro che il prezzo del computer non sia troppo alto. La prima, vediamo la prima. Isabella, fare attenzione ai computer. Qual è la forma giusta in questo contesto? L'hai trovata? Ok, vediamo, la forma corretta è questa. Fa, perfetto, perché abbiamo un registro informale. Vediamo la seconda. Signor Bianchi, essere sicuro che il prezzo del computer non sia troppo alto. Va bene? Allora, vediamo la forma corretta. Signor Bianchi, signor Bianchi, bravo, è trovata, via. Sia, bravissimo, perché, signor Bianchi, non abbiamo forma informale. Risultati. Isabella, fa attenzione ai computer cattiva qualità. Signor Bianchi, sia sicuro che il prezzo del computer non sia troppo alto. Bravo, perfetto. Andiamo avanti adesso. Ecco, sempre così. Carlo, verificare quali negozi offrono maggiori servizi. Sì, d'accordo, benissimo. Quattro. Signore, non risparmiare sull'acquisto del monitor. La prima. Carlo, verificare quali negozi offrono maggiori servizi. Va bene? Allora, Carlo, verificare. All'imperativo cosa diciamo? Carlo, ecco, bravo. Verifica. Bravo, perché abbiamo Carlo, una forma informale, dunque verifica. Due. Signore, non risparmiare sull'acquisto del monitor. In questo caso cosa abbiamo? Qual è la forma giusta? Signore, non risparmi. Sì, bravissimo. È una buona risposta. Attenzione, qui abbiamo signore, non risparmi sull'acquisto del monitor. Però nel testo introduttivo, ti ricordi, abbiamo questa forma. Non risparmiare sull'acquisto. Allora, signore, non risparmi. Qui abbiamo non risparmiare. Si tratta di un errore? Forse è una forma sbagliata. Assolutamente no. Perché? Allora, per capire questo facciamo questo esempio, diciamo questa attività. Risparmiare, acquistare, attivare. Ok? Diamo risparmiare. Non, tu non risparmiare. Lei non risparmi. Noi non risparmiamo. Voi non risparmiate. Acquistare. Non acquistare. Non acquisti. Non acquistiamo. Non acquistate. Guarda benissimo cosa c'è prima di questi verbi. Risparmiare, risparmiare, acquistare. Abbiamo una non. Dunque, non è, diciamo, è un elemento importante. In questa frase, dunque, non si tratta più di un imperativo affermativo, ma di un imperativo negativo. Bravissimo. Ok. Allora, l'imperativo negativo e affermati sono uguali? Guarda benissimo la tabella. Assolutamente no. o sì. Sì, sono uguali, però, a tutte le persone. Guarda benissimo, tu. Tu non risparmiare, tu non acquistare. Non a tutte le persone, sicuramente. Bravo. Dunque, imperativo negativo, imperativo affermativo, sono uguali tranne alla seconda persona. Dunque, completa la tabella. Tu non, per attivare. Ecco, attivare. Bravissimo. Lei non attivi. Noi attiviamo. Voi attivate. Benissimo. Ok. Allora, dunque, allora ci riassumiamo un pochino. L'imperativo negativo si forma in questo modo, ok? Tu più, tu per la seconda forma informale abbiamo non più infinito, ok? Va bene, adesso facciamo un po' di pratica. Completa con la forma adeguata dei verbi tra parentesi all'imperativo, va bene? Ok, vediamo. Anna Maria, non cercare di fare acquisti da sola. Due. Signore, non procedere mai all'acquisto di impulso. Anna Maria, non cercare di fare questi. Anna Maria, registro com'è? Informale? Formale? Bravo, l'hai trovata. Dunque, la risposta è cercare. Benissimo. Perché? Perché abbiamo registro. Non cercare. Non posso dire non cerchi. Ok? Bravo. Signore, dunque, proceda perché l'hai capito. Il registro è formale. Non posso dire non procedere. Bravissimo. Ok. Allora, adesso ricapitoliamo quanto abbiamo studiato, quanto abbiamo visto. In questa lezione abbiamo visto, uno, l'essico relativo al computer. Due, l'imperativo affermativo forme irregolari, ok? Poi, terzo, l'imperativo negativo. Prima di chiudere questo, questa lezione, di concludere questa lezione, leggiamo il compito. Un tuo amico vuole comprare un nuovo cellulare, dagli qualche consiglio. Ripeto, un tuo amico vuole comprare un nuovo cellulare, dagli qualche consiglio. Non dimenticare di fare l'esercizio, di utilizzare quanto abbiamo studiato finora. e soprattutto di dare, diciamo, il compito, consegnare il compito al tuo professore. Con questa attività, chiudiamo, finisce la lezione. Grazie dell'attenzione e arrivederci.